Mi chiamo Jack, ho 25 anni e svolgo il servizio civile presso il Centro Servizi per il Voluntariato dell'Ufficio di Pavia. Il bello di questo ente è che si ha un po' una visione d'insieme delle vere attività sul territorio e ogni giorno si lavora per renderle possibili. A chi volesse iniziare questo percorso consiglio di valutare bene il tempo che richiede rispetto ad altri impegni come possono essere lavorativi o scolastici e sicuramente bisogna munirsi almeno di un'agenda per riuscire a organizzare bene il proprio tempo e riuscire a fare tutto.